Mi piaceva a proposito di questo tema l'idea che era un famoso islamologo, esperto di Islam, padre Khalil Samir, che diceva probabilmente questa migrazione così massiva, quasi di provvidenziale, perché farà sì che noi, nella frizione che si causerà, riscopriamo la nostra identità cristiana, noi come Europa, perché ci troveremo davanti a chi ha un'identità fortemente islamica e quindi cercheremo di rinsaldare quello che è già in noi e che ora stiamo tralasciando. Samir, padre Samir c'ha ragione, l'incontro con l'altro rafforza la mia identità, deve rafforzare la mia identità, è pericoloso se è in una logica di contrapposizione, è in una logica di esclusione dell'altro, di rivincita sull'altro e altrimenti penso io, quando vediamo, non so, le decine di centinaia di uomini musulmani che si mettono a pregare per strada, no? Dice, mamma mia, sono arrivati musulmani, eccetera, eccetera, benissimo, o pregano, si mettono per terra a ginocchioni a pregare, forse qualche domanda ce la fanno, come mai, che cosa, è anche una, così, una suscita, diciamo, anche, dice, ma io che mi vergogno, di farmi il segno della croce, faccio per dire, no? Insisto, liberato dal discorso dell'antagonismo, della, diciamo, la categoria guerra santa crociata, diciamo così, e una purtroppo produce l'altra, con degli stereotipi fuori dalla storia, ma purtroppo sono le categorie con cui molte volte ci misuriamo o pensiamo di interpretare tutto, che sia una domanda che ci aiuta anche a dire, ma noi in che crediamo? Quando, per esempio, molti, molti musulmani hanno il problema di dire, pensano che non lo fanno in segreta più a niente, sono preoccupati per i loro figli, come certi nostri nonni che erano preoccupati per dimandare i loro figli in città perché quelli in città non credevano più a niente, sarebbe capitato di tutto, non c'era, poteva essere possibile tutto, cioè, per questo, per esempio, per me, è, quando pensiamo che l'accoglienza toglie il crucifisso, è sbagliato, è un discorso di laicità che non c'è senso, a mio parere, che infatti nessuno lo chiede, tra l'altro, anzi, più delle volte il mondo musulmano è assolutamente convinto, certo, qui si crede questo, anzi, fate bene, non capiscono perché uno non lo nasconde, diciamo così, no? Comunque, che sia, sono d'accordo con il fatto che un padre Samir, Gesù, credo che aveva tipo 85 anni, 87 anni. Eh, ne ha più di 80, sì, ma è ancora attivo, io l'ho visto l'anno scorso alla John Hopkins. Dunque, parlando invece di l'ambito interno al cristianesimo, senza restringere al cattolicesimo, ci sono tante confessioni cristiane, che soprattutto si stanno riproducendo quasi per meiosi, sono sempre di più, Sud America, per esempio, dove viene il Papa, vede un sorgere di movimenti pentecostali, eccetera. Dunque, noi abbiamo come cattolici una serie di credenze, di dogmi a cui abbiamo fatto riferimento prima, che sono un po' il quid proprium del nostro modo di credere in Cristo. Dunque, non crede che questi possano poi diventare fattore di divisione con le altre religioni? Che cosa? I nostri dogmi, le nostre verità? Il nostro modo di credere è così, diciamo, connotato da cose che si sono formate lungo la storia. Io direi quasi il contrario, io ho l'impressione della Chiesa Cattolica, e non lo dico perché penso sempre che facciamo troppo poco, però c'è una possibilità abbastanza straordinaria di essere al contrario quella più capace di far dialogare. Cioè, non è un caso che è la Chiesa Cattolica che ha saputo mettere insieme tutte le religioni, capisco che per qualcuno è il tradimento della Chiesa Cattolica, ma insomma, per me, anzi, caso mai, è dire che la Chiesa Cattolica riesce a creare dei legami, ad avere un dialogo, tanto da essere stata la prima e da continuare appunto a creare, a costruire i ponti, a creare delle motivi di contatto e di incontro, no? Io credo che anzi, forse è una delle responsabilità che la Chiesa Cattolica ha, sia all'interno del mondo cristiano, perché è più facile che la Chiesa Cattolica metta assieme, diciamo, dei cristiani che altrimenti avrebbero una grande difficoltà a dialogare, no? E poi, fra le varie religioni, voglio dire che tendenzialmente mi sembra che la Chiesa Cattolica ha un dono e deve vivere di più un dono dell'universalità, della capacità di parlare con tutti. E a proposito di questo c'è un pezzo della preghiera sacerdotale di Gesù che dice, preghiera, diciamo, per la Chiesa che si andrà a formare, siano una cosa sola perché il mondo creda. Dunque sembra che l'unità dei cristiani sia il presupposto alla fede del mondo. Qualcuno addirittura ha fatto, ha detto che dal momento che le Chiese si sono smembrate, hanno iniziato a disunirsi, la fede è calata, fino a che ora appunto si crede poco. Beh, chiaramente la divisione è sempre debolezza. Molti, per esempio, si sono interrogati se i cristiani fossero stati uniti, se il nazismo, se le Chiese erano unite contro il nazismo, per esempio se il nazismo con quel paganismo che portava avrebbe potuto così in poco tempo guadagnare la testa e il cuore dei tedeschi, no? Che sia uno scandalo evidente, che noi siamo anche una generazione che, diciamo, oggi ha tra le mani, in maniera forse ancora più consapevole, diciamo, la possibilità di realizzare l'unità, di ritrovare l'unità, forse ci deve appassionare anche un po' di più. Rischiamo di esserci abituati alla divisione, oppure rischiamo quello che è il vero sincretismo, a mio parere, che è quello della religione pret-à-porter, che ognuno si fa la sua, che prende un po' di quello, un po' di buddismo, un po' di evangelio, del mondo evangelico, cioè, alla fine poi il problema sono io, quello che serve a me, quello che penso che serve a me, in un grande supermercato delle religioni. Questo è il vero rischio, e del rischio che c'è, proprio perché non si dialoga, proprio perché si dialoga poco. Professore, cosa ne dice dell'unità dei cristiani, della Chiesa unita, come possibilità maggiore che il mondo creda? Cosa dice? L'ha scritto anche della Chiesa durante il nazismo, secondo lei avrebbero potuto fare di più se fossero stati uniti? Allora, sì e no, in realtà la Germania era il paese in assoluto più secolarizzato d'Europa, io ricordo che ci sono fatti due cancellieri austriaci che hanno dato la loro vita, due cancellieri austriaci cattolici che hanno dato la loro vita, ma Dolfus e Schnussing, che poi è finito invece il campo di concentramento. Tanti cristiani si sono accorti, chi prima, chi dopo, è vero, però bisogna ricordare che la Germania veniva da secoli di un certo tipo di cultura, per esempio l'antisemitismo è radicato dai trattati di Lutero fino a Fichte, fino a Hegel, fino a Kant, è molto forte. Poi bisogna dire la verità che i tedeschi nel 1933 hanno votato, non hanno votato, a parte che Hitler non ha mai preso la maggioranza, ha preso il 44%, il massimo di quello che ha preso. E poi le ha fermate, perché se no non avrebbe preso di nuovo. E' anche vero che i tedeschi non hanno votato tanto Hitler, quanto non hanno più votato dopo, dalla Repubblica di Weimar, quindi dal 18 al 32, hanno votato socialdemocratici. Il partito socialdemocratico, anche a causa delle pesantissime richieste della Francia, dell'Inghilterra, degli Stati Uniti, non ha retto, è stato abbandonato e il tedesco medio, certo c'era il tedesco nazista, ma molti tedeschi hanno votato l'ultima cosa che gli rimaneva da votare. Un po' come è successo a Roma qualche anno fa. Chi voti? Anche chi non era grillino ha votato Raggi, perché che prova avevano dato gli altri, no? Ecco, noi dobbiamo pensare a un paese con 6 milioni di disoccupati. Quando si affrontano questi temi storici, magari oggi noi facciamo un po' di accademia, ma la Germania era un paese che aveva perso la guerra mondiale, che aveva 6 milioni di disoccupati, che aveva il più alto tasso di astro... Aveva una paura terribile. Era il paese dove si leggeva più riviste astrologiche e magiche del mondo. Ne stampavano costantemente. Hitler è cresciuto nell'astrologia. C'era il terrore di quello che poteva succedere. C'era una società devastata nel cuore dell'Europa. Cosa ha significato di divisione per l'Europa? La divisione cristiana? Tantissimo, ma la divisione del Novecento, la prima guerra mondiale, quando ci siamo scannati e la seconda? Certo, le divisioni sono devastate. E lì c'è stato un popolo, c'è stato un popolo abbandonato a se stesso e c'è stato un uomo che ha saputo prendere tutto e veloce e in fretta e con una grande fortuna. Se Hindeberg non moriva un anno dopo, forse la storia cambiava completamente. Poi, quando i cristiani si sono organizzati, hanno fatto la rosa bianca e c'erano cattolici per lo più e anche protestanti, hanno fatto l'operazione Valkyria e lì si sono anche alleati in molte circostanze si sono alleati. È arrivato un po' dopo effettivamente, ma c'è stato un shock. Eccellenza, sempre nei momenti peggiori ci capita di allearci. Purtroppo, tiriamo fuori il meglio soltanto nella difficoltà, questo potremmo direttamente un pochino è vero. Infatti dovremmo pensare che le difficoltà ci stanno, riconoscerle, quando poi invece ci sembra che vada tutto quanto bene, abbiamo anche il lusso di dividerci, di non aiutarci. Sì, purtroppo un pochino è vero. Le esperienze di ecumenismo nel martirio, nell'affrontare diciamo le sfide del mondo sono bellissime, straordinarie, appunto venivano evocate adesso e ancora oggi diciamo i credenti che poi si uniscono contro diciamo il paganesimo come potrebbe essere come è stato il nazismo. Se non ragionassimo soltanto sull'emergenza o forse pensassimo che lo scontro ci sta sempre credo che tireremo un po' più fuori il meglio. Comunque il male fa parte di noi. Io ho paura di arrivare tardi a casa perché non riesco a finire la lite che ho iniziato prima di partire con mia moglie. Allora ci penso io a svenerla qui ancora un po'. Voglio dire il male ce lo porteremo sempre dietro, la divisione ce la porteremo sempre dietro, ce l'abbiamo con noi stessi la divisione quindi diciamo che questo fa parte dello scandalo del male in fondo uno dei grandi problemi di Dio è l'esistenza del male perché esiste il male se esiste Dio è forse il problema più grosso che in realtà credo che abbia le sue soluzioni sia filosofiche che pratiche però voglio dire il male ce lo porteremo sempre e la divisione e la divisione è pura.